привет a tutti ragazzi e bentornati qui incredibile in questo nuovissimo video e oggi siamo su hitman de peta oh yeah raga hitman è uno dei miei giochi preferiti ho giocato ad absolution l'ho finito e ce potete credere che sono successe cose indescrivibili dalle bocche di un comune mortale anche perchè sapete che io e lo stealth non andiamo molto d'accordo e l'ultima volta che ho provato a fare un'azione stealth su hitman si è scatenata la terza guerra mondiale e quindi siamo oggi qui sulla beta del nuovissimo gioco hitman e senza perdere altro tempo andiamo subito a giocarci e finalmente siamo qui ci credete che sto passati tipo 20 minuti da quando mi ha caricato e sto dovuto pure andare offline eccolo hitman amico mio da quanto tempo è che non te vedo mamma mia eeeh abbassate ste luci la cataratta scusatemi eh co co cosa si è messa a girare intorno da solo ah ma in inglese cazzo beato chi ci capisce qualcosa sta andando a scatti sta andando a scatti a scatti a scatti Sto lavorando su questo. Da quel che ho capito tipo... Mi vogliono fare tipo una specie di addestramento. Ma quale addestramento? Che io ho ucciso più persone che... 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 non so cosa. Speriamo che posso mettere i sottotitoli... perché vorrei capire pure io qualcosa. Ok... Vabbè... Mi ricordo comunque che mi divertivo a far fuori tutti i civili. Ah... e finalmente possiamo giocare. Però prima volevo vedere se potevo mettere i sottotitoli. Ehm... se... vai sottotitoli. Ehm... però non li posso mettere in italiano, vero? Mi sa de no. Vabbè... comunque... vedo un attimo l'impostazione e poi riprendiamo con il gameplay. Ok... mi prendo questo. You can't throw coins. If people hear the impact, they will investigate if they see a... Ah ok ok... li posso distrarre. Play... play the explosive weapon... Ah ok un esplosivo. Ehm... Ehm... The white arrow indicator... Oh! Ho appena iniziato. Ehm... cos'è? Ah no 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 no. Hitman che cazzo stai facendo? E mi devo ancora imparare i tasti. Ok... Adesso devo farlo senza... Iiiiiiii! Ma regà... Ma vogliamo... Ma vogliamo... Regà... Ma vogliamo mettere... Regà... vogliamo fa' la stronzata? Regà... La vogliamo fa' la stronzata? La vogliamo fa' Oddio no regà... Sono troppo tentato di farla. Oddio... Ma mi mettono davanti un'arma così... Porca troia! Vabbè regà... Io lancio una moneta. Se esce testa... Facciamo la cazzata. Se esce croce... Andiamo stealth. Ok... una moneta... una moneta... Eccola, eccola, eccola. Ok regà... Ok... uno... Due... Tre... Ehm... Oddio regà... Io... Vi dico la verità... Spero esce testa. TESTA! Porca troia! Facciamo i culi! Eh sì però... Hitman... Ok... Porca troia! TIE! Porca puttana... Sì però prendilo Hitman... TIE! Dai forza! TIE! 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 le munizioni, le munizioni, quindi io direi di andarmi a prendere il fucilazzo a pompa. Yes! Ma e beh, quanto grande il coso. E ma voi morì! Oh! Oh! E la madonna, quanto cazzo è forte il proiettile! E questi sono amici o nemici, vabbè. Io direi di andare comunque. E come se corre? Ma vaffanculo pure a te! Sì, però, tuo cazzo... Te me stai sul cazzo, tiè. Proprio lui aveva una faccia che me stava proprio sulle palle. Pure te me... Me stai sul cazzo, pure te! Regà, e sta nave me stanno sul cazzo un po' tutti, ve lo dico! Ok, vediamo un po'. Io direi di andarla a prendere. Toh! Quanto cazzo è forte sta pistola! E come si ricarica? Io mi ricordo però, Kate, ma se prendevi un'altra arma ad Absolution. Che cazzo è successo? E fuci la pompa, mi è entrato dentro! Ma vaffanculo, va! Oddio! Diciamo che se vede che la beta, c'è il fucile a pompa, è diventato una parte di me. Oddio! Questa si si sgoppia. Oddio, no, regà, ma avete visto il delirio anche voi? Avete visto? Toh! Fate una ninna nanna. Te invece, visto che stai là sopra, toh. Mamma mia, tipo... Me sto troppo a divertì. Me sto troppo a divertì, però... Eh, vabbè, ho capito, dobbiamo far fuori... Dobbiamo far fuori... Tutti quanti fino a che non troviamo il bersaglio. Vabbè, ho capito. Mamma mia, se salgo sopra faccio una strage. Mamma mia! No, dai, regà, facciamola la strage, facciamola. Ma help me cosa che vi uccido tutti dal primo all'ultimo? Chi è? A voi là sotto ci penso più tardi. Dai, da forza, forza. Vi uccido a tutti! Vi uccido a tutti, pezzi di merda! A te no, perché sei carina. Morite tutti! Morite tutti, figli della merda! Eccolo! Amico mio! Arrivo! Con una bella sorpresina. Ma stai zitta! Stai zitta! Chi cazzo vuoi che t'aiuti? Ah, c'è le guardie? Va bene, non ci sono problemi. C'è... Nel sen... Nel senso... Amico mio, ti vorrei uccidere un attimo con stile, però... Ah, sì, 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 sì. Ti vorrei uccidere un attimo con stile. Eh, questo qui. Eh... Toh. Ok. Io direi che la nostra missione è finita. Toh! I don't want to die! I don't want... Eh, la madonna! Che cazzo era? Una bomba nucleare? Ma porco Giuda! Come si fa a correre? Che mira di merda! Che mira di merda! Ah, posso fuggire con l'elicottero di legno? Va bene! Io ce la provo a fuggire con l'elicottero di legno, però... La tosse ancora! Regà, ma se a Hitman Absolution facevo sta cosa... Regà, non potete capire i punti che mi toglieva! Cioè... Io ho fatto sta cazzata solo perché all'inizio mi avevano messo i mitrali e i fucile a pompa. Diciamo che se... Eh, mission accomplished! Ho sterminato una popolazione de... De... De manatta, ma ho sterminato! Vorrei vedere se non è accomplished! You have completed the free training module. Provene to the final test to stay and continue your training. Eh, voglio andare al final test! Andiamo al final test! I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. Hmm. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. My decision stands. Very well. I'll be watching. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, a famous U.S. chessmaster exposed as a Soviet spy. Soda's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This is your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, he even added additional guards. Soda's wants you to fail. He considers you a threat, and this way, your unfortunate exit from the program will not raise any eyebrows. He did not, however, factor me into the equation. Hmm. If Soda's can bend the rules, then so can I. Good luck in this shit. Ragazzi, io direi che il video può finire qui. La prossima volta faremo stealth, visto che prima abbiamo fatto quella strage, direi che adesso mi sembra il caso di fare stealth. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete e un prossimo video con il vostro Yuri Maverick. Da svidania! Da svidania! Da svidania! Da svidania! Da svidania! Da svidania! Da svidania!